Mancini, il consiglio zagnolo. Roma cambio generazionale, nel calcio è più difficile rispetto alla pallavolo, al basket o alla pallanuoto. In Italia dobbiamo cambiare la nostra mentalità e pensare che i ragazzi di 18-19 anni possano giocare a massimi livelli. Bisogna dar loro fiducia. Lo ha detto il Citi della Nazionale di Calcio italiana. Roberto Mancini, durante allenare l'Azzurro in corso questa mattina al Salone d'Onore del CONI. Bisogna dare loro la possibilità di fare errori e di essere chiamate dalle nazionali prosegue l'U21. Ad esempio, arriva a fine biennio che hanno giocatori di 23 anni e alcuni di loro non giocano in prima squadra. Per noi così è faticoso cercare i talenti. Poi, rivolgendosi al Citi della Pallavolo. De Giorgi, aggiunge, quando ha messo dentro tutti i ragazzi e ha vinto l'Europeo sono rimasto estasiato. Avessimo noi la possibilità di fare questo. Va cambiata la mentalità alla base. Poi devono darci la possibilità di avere i calciatori per più tempo. Mancini, Zagnolo, deve sfruttare il suo talento. Si mette a disposizione della squadra come sempre sul caso Zagnolo, sempre più lontano dalla Roma. Il Citi della Nazionale ha commentato, Zagnolo, il mio osservatorio è sempre lo stesso. Dal primo giorno che l'ho visto penso che sia un ragazzo con grandi qualità, credo che debba mettersi a disposizione della squadra come sempre. Come fanno tutti i giocatori, e sfruttare il suo talento. Mancini sul caso Juve, non so se può influenzare i miei giocatori. Punto. Mancini ha detto la sua anche sul caso Juve, il caso Juve può influenzare i miei giocatori. Questo non lo so. I giocatori però vanno in campo, pensano ad allenarsi e a giocare, quindi io penso di no. Virgola.